Ehi, bomba, com'è? Tutto a posto? Ma stavolta, ti volevo chiedere una cosa, sai che di solito noi tutti i mercoledì giochiamo a calcetta, no? Eh, ti volevo chiedere, visto che da un po' che non vieni, hai voglia di fare un salto così a me non mi facciamo come è? Ronaldinho dei tempi d'oro? No, amiche e amici, io non ci sto, non si ascoltano così i messaggi vocali, per strada, sui pullman, nei locali, ovunque, potete vedere persone che ascoltano gli audio dall'altoparlante esterno dello smartphone Carissimi, sapete che esiste un altro modo? Sapete che esiste un metodo per sentire da sé i cavoli vostri senza che il mondo intero ne risenta? Ora vi insegno come si fa Per far sì che chi è accanto a voi o nelle vostre vicinanze non venga infastidito dai vostri audio, dai fatti vostri Basta premere questo pulsante e portare lo smartphone all'orecchio come se doveste telefonare E il gioco è bello che è fatto, è semplice, no? Quando le vostre vicinanze non venga infastidito Non ridere, va bene Non sto ridendo Vabbè, dai, dai Aspetta, aspetta, aspetta Ovunque, potete vedere persone che ascoltano il... Ah, dimenticavo Oppure, potete usare... Le cuffie Le cuffie Le cuffie Le cuffie Grazie a tutti